A Cava di Titeni la farmacia Carino offre anche servizi per il controllo della salute. I nostri dispositivi permettono di ottenere in tempi brevissimi referti di pronta consultazione da parte dei medici. È stato approvato in Consiglio Comunale l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Diverse le novità che hanno costretto l'amministrazione comunale a dover mettere mano al documento di programmazione già approvato nei mesi scorsi. In particolare, nell'annualità 2025 è stato inserito il progetto relativo alla riqualificazione messa in sicurezza dell'ex strada statale 18 nel tratto compreso tra via Spineta e viale Riccardo Romano, un appalto candidato a finanziamento per un importo complessivo di 3 milioni di euro. Inoltre, sempre per l'annualità 2025, è stato inserito il progetto che riguarda il completamento della pista ciclabile in viale Marconi, appalto da candidare a finanziamento per un milione di euro. Cancellato dall'annualità 2024, l'intervento relativo alla messa in sicurezza, adeguamento sismico ed impiantistico della palestra della scuola Simonetta Lamberti di Pregiato, poiché il finanziamento non è stato ancora concesso a causa dell'inagibilità dell'istituto a cui la palestra è annessa. Intervento questo che sarà candidato ai prossimi bandi ministeriali e regionali. Slitta invece dal 2024 al 2025 l'intervento che riguarda la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via Antonio Gramsci. Inoltre, dalla delibera approvata, si legge che è stata inserita nell'annualità 2024 la realizzazione di una rotatoria a snudo tra via Santorillo e via Arte e Mestieri per un importo complessivo di 400 mila euro finanziati dal consorzio Asi. L'argomento è stato approvato con 15 voti favorevoli e la stenzione dei consiglieri di opposizione dell'Ia della Monica e Canora. Voto favorevole è stato espresso anche dal gruppo consigliare La Fratellanza, capeggiato da Luigi Petrone. La Fratellanza ha votato favorevole perché ci sono dei lavori che interessano la città ma soprattutto lavori proposti dalla Fratellanza e abbiamo insistito tante volte come la strada statale che dall'inizio di Nocera Superiore porta fino a Cava che sarà completamente sistemata, asfaltata di nuovo gli alberi e l'entrata di Cava è un qualche cosa di bello e poi ci sono tante altre opere a cui noi siamo legati particolarmente. Quando si tratta per il bene della città, quando si tratta di qualcosa che serve per l'utilità comune noi della Fratellanza continueremo a essere vicini all'amministrazione però cercheremo sempre di controllare e soprattutto di essere forti quando ci sono delle critiche da portare avanti e dei problemi da affrontare. Certamente io che faccio il cammino per essere candidato al sindaco devo guardare gli interessi della mia città, della nostra città e quindi sono il primo a essere favoribile ma poi a lottare ad essere contrario quando ci sono degli abusi o ci sono persone che si possano approfittare nel nome della nostra città.